Lui scriverà il regolamento, ma io che cazzo farò se i soldi non ce l'ho? E adesso che finisce la canzone, finisce i cuglioni, lanci le cose sorda a Cristo, sino non ce fa fatica. Sanno in coppa la tavola e fanno un ballone. E tu hai suonato mezz'ora per dicere a me la potenza. Ma che sapevo di dire? Oglio, ma su barra che ne cosa? Troppo spesso. Eh, io non ci capisco. Ma che lo stanno per tutto fa? Eh, tutto fa, ma sai che se mi siamo... Ecco, vedi, questi qua sono... Quattordici? Tu non devi venire più qua. Quanta figlia ti ha? E i figli quanti c'è? Quanti figli hai? Quattro. Quattro. Quanti c'è figli te? Eh, sposo, da quattordici anni già fanno sei figli. Questi qua fanno quel discorso. Ammirati!